Nell'ambito del percorso di avvicinamento verso la giornata regionale della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime delle mafie, si situa il seminario per amministratori del Piemonte dal titolo Il rischio di penetrazione mafiosa nel ciclo del contratto pubblico. Questa iniziativa sottolinea l'impegno della regione Piemonte nella lotta contro le mafie. E' un impegno forte che passa attraverso iniziative sia da un punto di vista di approfondimento come quella che si tiene oggi di contrasto al fenomeno mafioso attraverso una regolarità negli appalti, nella gestione del danaro pubblico. E passa poi attraverso anche delle iniziative con dazione di danaro alle associazioni che realizzano il momento della sanzione, cioè quando i beni sono stati confiscati alla mafia, al sistema mafioso e vengono recuperati alla società civile. Il convegno è stato organizzato grazie al lavoro di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Quest'associazione si impegna da sempre nella lotta contro le mafie, in particolare contro l'illegalità e contro la vendita dei beni confiscati alle associazioni mafiose. La lotta alle mafie ha bisogno di un rapporto sano tra cittadini e istituzioni. Troppo spesso la storia del nostro paese ci ha insegnato che la forza delle mafie è legata alla debolezza dello Stato. Dove lo Stato non c'è, dove lo Stato non è credibile, le mafie hanno gioco facile. E allora lavorare insieme alle istituzioni di questo territorio perché la trasparenza amministrativa, la legalità degli appalti, la trasparenza nei contratti siano caposaldi dell'azione amministrativa e del rapporto tra amministrazione e economia è uno dei punti fondamentali del lavoro di Libera sul territorio. Siamo contenti perché fin qui abbiamo trovato sempre un dialogo virtuoso e concreto con le istituzioni di questa regione. Il prossimo appuntamento sarà a Napoli il 21 marzo quando anche la regione Piemonte parteciperà alla giornata di ricordo nazionale per le vittime della mafia.